Torna a San Bartolomeo al Mare la fiera della Candelora, l'1, il 2 e il 3 febbraio prossimo. È la fiera più antica, si parla di 315 anni addirittura. Una fiera che propone tante cose, agricoltura, artigianato, bestiammi, commercio, gastronomia e quant'altro. Ma per entrare nei dettagli ne parliamo con il vice sindaco di San Bartolomeo al Mare, Maria Giacinta Negli. Allora partiamo dalla fiera proprio. Sì, la fiera della Rovere, detta della Candelora, ormai sono oltre 300 anni che si svolge a San Bartolomeo. Fa parte ormai della tradizione e della cultura del nostro territorio, periodo in cui ci si fermava dai lavori nei campi e si iniziava a guardare alla stagione primaverile, quindi si andavano a comprare le sementi, i nuovi bestiami ed ecco quindi che ci si incontrava ed è nata attorno al santuario della Madonna della Rovere questa fiera appunto nel lontano 1600, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui ci sono oltre 300 commercianti che espongono la loro merce e attorno al tessuto cittadino e quindi attorno anche alla chiesa, al santuario della Madonna della Rovere. Importante accanto a questa fiera c'è anche la quindicesima edizione di Arti e Sapori come diceva lei è appunto un incontro di enogastronomia e artigianato di tutta un po' l'Italia perché arrivano espositori dal Trentino Alto Adige fino alla Sicilia con tutti i loro piatti tipici o comunque prelibatezze che sarà il caso appunto di venire ad assaggiare in questi tre giorni il primo febbraio, il due, il tre febbraio a San Bartolomeo al mare. Naturalmente non manca lo spazio per i bambini? Non manca lo spazio per i bambini con i cavalli, le pecore, gli animali in genere con la cosiddetta fattoria ricreativa. C'è proprio la didattica per i bambini che verranno accolti nei vari stand e potranno proprio avvicinarsi agli animali. Una cosa molto simpatica che ho letto appunto sulla locandina è l'accanto del gallo è giunta la terza edizione, ci lo spiega un attimo. Sì, alle sei del mattino ci sono i giurati e coloro che hanno iscritto i loro galli che si incontrano appunto sul sagrato della chiesa della Rovere per sentire il canto del gallo e vince quello che canta più a lungo. L'anno scorso vinse il gallo Vladimiro, quest'anno tutti invitati alle sei del 2 febbraio a sentire il canto del gallo. Ci attiremo tutti all'alba appunto, proprio con il gallo. Diamo ancora un appuntamento e la location della fiera. Sì, l'appuntamento l'1, 2 e 3 febbraio appunto a San Bartolomeo al mare, le vie, la via centrale appunto è quella della zona della chiesa della Madonna della Rovere e poi tutte le vie circostanti. Un'altra curiosità, parte accanto appunto a questa iniziativa, a questa fiera, sarà anche il quarto concorso dedicato alle scuole elementari e quest'anno questo concorso ha il titolo Sognando la mia fiera. Chiediamo ai bambini delle scuole elementari di San Bartolomeo di sognare una loro fiera e quindi di lavorare e presentare questi loro manufatti elaborati sulla fiera. E poi ci sarà uno spettacolo finale con la premiazione delle classi più meritevoli a giugno con uno spettacolo ad hoc dedicato ai bambini e soprattutto dei premi in denaro visto che la scuola ha bisogno anche di queste sovvenzioni. Grazie.